Benvenuti, grazie di essere qui, ma soprattutto grazie alle persone che sono qui per voi. E allora io vorrei ringraziare, beh, questo è ovvio, Piero Angela che ha anche avuto l'idea di questa iniziativa e che è quel grande diffusore della cultura scientifica che tutti conosciamo, ma non solo della cultura scientifica, anche del metodo che c'è dietro, che è ancora più importante. Ma il ringraziamento a Piero Angela è scontato. Io voglio ringraziare Juan Carlos De Martin, che ci ospita tra l'altro, il professore di questo Politecnico, e più ancora, se Juan Carlos me lo consente, vorrei ringraziare Ferruccio De Bortoli, al quale farei subito anche un applauso. Ferruccio De Bortoli, come probabilmente sapete benissimo, per due volte è stato direttore del Corriere della Sera, ha diretto Il Sole 24 ore, è autore di molti libri. Io vorrei citarvene due che hanno proprio a che vedere con l'informazione. Uno è Poteri forti, o quasi, tra parentesi, memorie di oltre 40 anni di giornalismo, uscito dalla nave di Teseo poco tempo fa, quindi un libro recente, e poi consapevoli, beati quelli che informeranno persone di qualche anno prima, del 2014. Vi cito quelli che hanno a che vedere strettamente con l'argomento di oggi, ce ne sarebbero naturalmente molti altri. E anche presidente della casa editrice lombianesi, se non sbaglio. Quindi non lui, perché non c'era lui, ma anche la responsabilità di aver pubblicato qualche mio libro. Grazie comunque a Ferruccio De Bortoli. Allora, abbiamo anche il nostro campione di pubblico, e quindi io voglio salutare Chiara Platania, che è della quinta liceo classico Cavour, liceo classico tradizionale, quindi proprio quello duro, quello vero, che molti di noi hanno fatto a suo tempo. Ed è molto interessata alle scienze, però, pur frequentando il liceo classico. E questo è un argomento anche di moda, perché come sapete c'è la riscoperta della scienza nel mondo classico, dove la scienza in realtà ha delle radici profonde che sono state dimenticate per molto tempo, ma che sono estremamente importanti ed estremamente attuali. Saluto anche Ilaria Tagliaferri, che è del terzo anno del Politecnico e che quindi rappresenta gli studenti del Politecnico, che qui credo siano più di 200, e si occupa essenzialmente di energetica. Quindi ci sarà una giornata tutta dedicata a lei, perché avremo una giornata con il professor Armaroli, Università di Bologna, che proprio ci parlerà del problema energetico. Ma era interessata anche oggi molto all'informazione, quindi la ringraziamo di essere qui. E infine saluto Veronica Gregorio, che non ho ancora avuto modo di conoscere un po' bene, eccola. Però, insomma, anche lei è del Cavour e anche lei ci farà, ci porrà dei problemi, delle riflessioni, delle contestazioni. Io vorrei vedervi davvero anche un po' vivaci, oltre che passivamente attenti alle nostre lezioni, vi vorrei attivamente interagenti. Ecco, diciamo così, non è che vi stia sollecitando una sollevazione popolare, un moto di protesta, però dico un po' di vivacità, questo forse non guasterebbe. Siamo naturalmente sui social, ahimè, non se ne poteva fare a meno, sarà un tema di oggi, forse non ne parleremo tanto bene dei social, forse ne parleremo anche abbastanza male, però ci siamo anche noi. E cerchiamo almeno noi di usarlo bene, quindi se ci sarà una domanda o più domande interessanti, noi le rilancieremo con Twitter, no? E Instagram, e anche con Instagram. Sto guardando colui che gestisce, che ha la regia dei nostri social. Bene, allora direi che a questo punto si può incominciare. C'è stato un piccolo accordo per cui incomincia Piero Angela, non solo perché il decano di noi giornalisti scientifici, ma perché ha un discorso introduttivo che ha proprio a che vedere con il tema di oggi, perché credo Piero Angela ci parlerà soprattutto di quanto sia importante l'emotività nell'informazione. Poi con Juan Carlos De Martin, che tutti ovviamente qui al Politecnico lo conoscete, ma lo dico per chi invece viene dai licei e professore al Dipartimento di Informatica qui di questa università, e con Angelo Raffaele Meo, che è anche un mio carissimo amico, nel 98 ha fondato l'Internet Media Group ed è con il giurista Marco Ricolfi uno dei promotori della versione italiana di Creative Commons, quindi quel movimento che tende a rivedere il diritto d'autore in modo da tutelarlo, ma nello stesso tempo liberalizzare la circolazione dell'idea e quindi anche della creatività. Grazie, grazie a tutti voi. Passo subito la parola a Piero Angela. Bene, benvenuti, grazie agli ospiti di oggi che sono intervenuti e ai ragazzi che faranno poi la domanda. Io parlerò di un argomento che è apparentemente lontano, ma è molto vicino in realtà all'informazione, perché non c'è informazione se non c'è emotività. Quando a scuola si dice, entra in orecchio e esce dall'altro, perché in realtà all'interno non è successo qualcosa che invece è importante per l'apprendimento, ma per l'acquisizione di informazioni e di notizie, ed è l'attenzione. Allora, i meccanismi dell'attenzione sono stati studiati ed è molto interessante vederti che poi, dopo un percorso all'interno del cervello, arriveremo proprio al campo delle notizie. Allora, faccio un esempio iniziale. In questo momento voi ricevete molte informazioni, con gli occhi e con le orecchie, non solo. Vedete lo schermo che è alle nostre spalle, guardate le persone qui intervenute, ma non fate caso ad altre informazioni che vi arrivano in questo momento. Per esempio, i vostri piedi vi stanno dicendo che voi avete un contatto con il pavimento. Provate per un attimo a focalizzarvi sui vostri piedi e vi accorgete che c'è una sensazione di tatto che il pavimento vi trasmette. E anche nella schiena, e anche nel fondo schiena. Se pensate a questo, vedrete che diventa dominante questa informazione, che in realtà ignorate, perché è una specie di flusso continuo che non si muove e che quindi non segnala niente di nuovo o di importante. Ma immaginate che vi sia un terremoto e con i piedi cominciate a sobbassare. Quella diventa l'informazione principale, tutto il resto viene cancellato. Conta questa priorità. Allora, noi abbiamo come dire un termostato che ogni volta ci focalizza in un senso o nell'altro a seconda di quanto queste informazioni colpiscono la nostra emotività. E uno dei meccanismi, in questo caso, è la variazione. Se voi vivete in un villaggio vicino a una cascata d'acqua, la cascata ormai non la sentite più, un po' come il piede che tocca il pavimento, ma se improvvisamente la cascata si fermasse, siete allarmati, perché la variazione porta a qualcosa di insolito, a un allarme. Cosa sta succedendo? Questa variazione cosa sta portando? E allora si capisce bene perché i segnali che intendono dare allarmi vengono fatti con delle variazioni di suono e di luce. Per esempio le sirene delle ambulanze che hanno due tonalità e questo si sente subito che c'è qualcosa che ha la priorità. Oppure i lampeggiatori delle luci della polizia o anche le strisce pedonali che sono un'alternanza di nero e di bianco, ma persino quando si parla delle persone che hanno un tono monotono richiamano meno l'attenzione di alcuni che hanno alti e bassi crescendo e diminuendo. Cioè noi siamo molto sensibili a questo e per delle ragioni importantissime, molto arcaiche. E allora per questo dovremmo fare un rapidissimo viaggio all'interno del cervello. Voi sapete che il cervello è fatto da vari strati. Diciamo che intanto è una massa gelatinosa che ha la consistenza di un creme caramelle fatto per 75% di acqua. Per disegnare alcuni è un po' di più forse. e ha questa parte nobile che avvolge il cervello con le circonvoluzioni che se distesa sarebbe un fazzoletto di un tovagliolo di 40-50 centimetri di lato spesso 2 o 3 millimetri. E lì dentro c'è tutto, l'intelligenza, la creatività, la musica, la letteratura. Ma sotto ci sono altre due parti molto complesse. È un po' come un motore di un'auto, fatto di varia parte, ma che funzionano tutte sempre contemporaneamente. Semplificando molto, la parte più arcaica, quella che si chiama il midollo allungato, contiene veramente gli istinti di base di sopravvivenza. La sete, la temperatura corporea, la pressione, i movimenti intestinali. Poi c'è un'altra parte, più recente, ma sempre molto arcaica, che è quella delle emozioni. Con la migdala, con l'ipocampo. L'ipocampo è una piccola struttura che io una volta l'ho definita, è una definizione che mi è piaciuto molto un ero fisiologo. L'ufficio smistamento pacchi. Cioè, quando arrivano dei segnali, in questo caso, per esempio, delle variazioni di suono, questa struttura si attiva e crea l'allarme. È lì che passano i segnali, che provocano una reazione biochimica in una zona del sistema limbico, che inietta, per così dire, delle sostanze chimiche nella corteccia. Queste sostanze attivano la formazione di nuove proteine nelle ramificazioni delle cellule nobili, quelle della corteccia, e creano le memorie. Quindi diciamo che il circuito è allarme di sonoro o acustico, o, come è avvenuto nel corso dell'elaborazione, cioè pericoli di essere predati o prede da predare. E questo crea un'attivazione che forma delle esperienze, delle memorie. Noi siamo fatti, nel corso della nostra vita, di un numero sterminato di queste esperienze, tutte basate sull'emozione. E se voi fate scorrere in un minuto la vostra vita, come un film accelerato, vi renderete conto che tutte le vostre memorie, quelle che conservate di quello che è stata la vostra vita, sono legate a momenti emotivi. A scuola, successi e insuccessi, promozioni, ma poi lutti, vacanze, amori, grandi pranzi, esplorazioni, corteggiamenti, innamoramenti, vincite, eredità, qualunque cosa che vi ha provocato dolore, rabbia, piacere, il sesso, naturalmente, ed è questo film che rappresenta la nostra vita. Tutto questo si è annidato nei circuiti nervosi. Ora, le due parti primitive sono sostanzialmente simili, con le dovute differenze nei mammiferi, in particolare nei mammiferi superiori. Ma quello che cambia nell'uomo è la parte della corteccia, dove esiste un numero enorme di neuroni fini. La lumaca, che ha il cervello più semplice, molto studiato dagli ricercatori, proprio perché hanno identificato circa 20.000 cellule nervose e i loro collegamenti. È evidente che non può avere un'attività mentale molto ricca. Noi non abbiamo 20.000, ma più di 100 miliardi di cellule nervose. È evidente che lì c'è una ricchezza di intrecci, di circuiti, di sovrapposizioni, di pressioni anche. In particolare in una zona che è tipica della specie umana, è la corteccia prefrontale, che è quella dove arrivano tutte queste memorie e che permettono, associandosi, di creare dei pensieri, dei ricordi e anche dei progetti. E' qui che avviene. E di fatti questa parte è pochissimo sviluppata anche negli scimpanzei che sono così vicini all'uomo e molto meno negli altri animali. Quindi la nostra ricchezza è lì. E allora cosa succede? Che questi impulsi, questi allarmi, questi piaceri, queste variazioni, queste memorie, questo archivio immenso riesce nell'uomo a diventare, con l'associazione e la simulazione di idee, di pensieri, a diventare attività mentale. Cioè, non sono più soltanto le cose concrete, ma c'è l'astrazione che consente di percepire un pericolo anche se non succede niente perché si riconoscono certe situazioni e poi il pericolo può essere o il piacere può essere di natura molto diversa, può essere di tipo letterario, musicale e di questo dipende dalle esperienze personali. Allora, cosa c'entra tutto questo con l'informazione? C'entra moltissimo perché in realtà quello che interessa il pubblico sono le notizie emotive. Io faccio un piccolo esempio che mi è rimasto, è stata forse la mia prima lezione di giornalismo. Quando ho cominciato qui a Torino, agli inizi degli anni 50, il mio lavoro di cronista al giornale radio alla sede di Torino, al mattino, alle 11, aveva un collegamento tra tutte le cittadini, quindi tutte le redazioni, il caporedattore da Roma che era Carlo Bonciani e cominciava un giorno io ero lì ad ascoltare Venezia, cosa avete stasera per Radio Sera? Milano, Torino, Genova, e era il dopoguerra Genova produceva navi e questo cronista dice ma avremmo un varo e il caporedattore gli dice Sandro te l'ho già detto il varo interessa se va male. Questa è la notizia. Il varo non interessa se va male. se voi leggete il sommario del telegiornale sono tutte disgrazie, accoltellamenti, riliti, incendi, disastri ferroviari, morzi, oppure amori, pettegolezzi, canzoni, tutte cose che colpiscono la nostra emotività. si dice spesso che i grandi titoli sono fatti con 5S, sangue, soldi, salute, sport, scandali, poi anche speranza e tante altre di esse possono essercene tante. Allora di qui arriviamo poi direttamente allora sul terreno pratico e che io vivo questa cosa dentro a un'azienda che è la RAI dove la missione è quella di fare servizio pubblico che comprende tutto naturalmente anche l'amore, le passioni, lo sport, eccetera, ma anche cultura o informazione più approfondita e allora ci troviamo e parlo per il lavoro che io faccio direttamente di fronte a quello che ogni giorno se ne parla lo vediamo sui giornali è l'indice d'ascolto perché sapete che un'azienda che come la RAI non parliamo delle private vivono sulla pubblicità perlomeno in parte e in una parte poi determinante è come la pagina del giornale che è la Corriere della Sera vale molto di più la pagina in termini di pubblicità di un giornale piccolo giorno di provincia e quindi incassa molto di più per la televisione è la stessa cosa più l'ascolto è alto più c'è invece in caso le tariffe aumentano io ricordo che un anno un presidente della RAI fece una dichiarazione che fu molto sorprendente e cioè che bastava annualmente la perdita di un punto di share per avere una perdita all'epoca parliamo di lire di 50 miliardi di vecchie lire un punto di share ecco e quindi questo cosa vuol dire che c'è una forte pressione intanto per mettere i programmi più difficili in collocazioni un po' più defilate dove i danni sono minori dal punto e viceversa in questa piramide di mettere nella parte più più riditizia dove la base è larga dei programmi di intrattenimento allora questo non è poi io lo vivo dal punto di vista personale ma siccome oggi noi viviamo in una società in cui abbiamo bisogno di approfondire tutti i temi che voi state direi che questa iniziativa è nata proprio perché in un ambiente come quello universitario qui non abbiamo bisogno dell'indice di ascolto anche se è importante che voi veniate sempre qui a queste conferenze e quindi anche qui abbiamo l'indice di presenza che è importante ma questo l'avete scelto voi siete stati volontaria a seguire vuol dire che questa cosa vi interessa però ecco noi abbiamo bisogno di parlare dei problemi del paese allora il direttore del Corriere della Sera De Portoli sa benissimo che i giornali non sono letti uniformemente e l'articolo di fondo lo reggono persone che hanno degli interessi perché per loro ci sono lì degli allarmi dei premi e delle punizioni altri cercano la cronaca altri cercano lo sport allora c'è però una differenza perché nel telegiornale se voi sentite nel sommario che c'è una notizia che vi interessa dovete seguirlo tutto per arrivare a quel punto il giornale no perché si sfoglia si arriva direttamente c'è una lettura verticale per quanto riguarda la televisione e orizzontale per i giornali potete nei giornali saltare la pubblicità in televisione e ve la dovete sorbire tutta quindi i giornali hanno più possibilità di fare anche cose difficili perché c'è una nicchia che segue anche le cose più riflessive scritte in termini per delle persone più colte o per delle minoranze poi naturalmente lo spazio per gli altri ecco tutto questo vuol dire che e questa è la mia esperienza per riuscire a trasmettere informazioni bisogna attivare l'emotività anche quando si parla di cose serie e difficili una volta ho assistito a un esperimento curioso che forse interesserebbe De Bortoli perché era un professore di psicologia che prendeva i suoi allievi uno alla volta e li sottoponeva a un esame col poligrafo la macchina della verità per così dire questo significa che noi abbiamo dei parametri queste macchine prendono il ritmo cardiaco la pressione l'umidità della pelle e altre caratteristiche fisiologiche che aumentano o diminuiscono a seconda dell'emotività che in quel momento il soggetto e faceva questo facendo loro leggere dei giornali o degli settimanali e misurava quanto un giornalista piuttosto che un altro riusciva a interessare cioè a emozionare il suo lettore tra l'altro spiegando che nei giornali valeva più la notizia perché era quella che interessa di più nei settimanali quando la notizia ormai è passata interessa il modo di raccontarla cioè se uno comincia dicendo quel giorno l'onorevole tal dei tali uscì di casa molto arrabbiato e si fermò però di colpo perché ebbe un dubbio ecco uno dice oddio che è successo lo sentiamo perché poi dice delle cose banali o comunque ristapute però le trattano in un altro modo allora ecco secondo me uno dei problemi specialmente attuali perché voi lo sapete che sul web lì non c'è nessuno che paga non ci sono abbonamenti non c'è l'unica cosa che pagano sono i famosi ponteggi che si hanno in classifica per cui c'è la pubblicità e quindi c'è una corsa sfrenata per sopravvivere per beccare il click mi piace e quanti click hai fatto e quindi altrettanti soldi avrai e quindi lì si fa di tutto sono le famose fake news che servono proprio per attirare i pesciolini e io ho avuto un paio di esperienze perché un paio di volte è stata annunciata la mia morte e questo era una buona notizia per alcuni forse per i miei nemici della parapsicologia e dei guaritori però molta gente diceva andiamo a vedere poi siccome ci c'era anche l'ostricione la RAI sta preparando un programma per commemorarlo c'è nei dettagli io ricordo che una volta ero a Camogli per il festival della comunicazione e il mattino dovevo tenere per fare una conferenza e al mattino mi telefonò il direttore dell'agenzia di Ennecronos e dice pronto? sì? dottor Angela? sì? sono io come sta? sto bene lei? perché qui è arrivata la notizia della sua morte smentisca smentisca e di fatti ho cominciato la conferenza dicendo purtroppo una cattiva notizia da darvi proprio stamattina parlando col direttore dell'ADN mi hanno detto che c'è stato e mi ha telefonato anche Bozzetto famoso cartoonist dice ma allora si vivo? sì sì sono vivo ma qui dice che per sapere di più devo cliccare mi piace ma a me non piace sì insomma piccolo episodio humor noir ma per dire che ormai c'è la corsa a prendere i soldi dalla pubblicità e le fake news sono spesso dovute non solo persone un po' matte che si è pieno ma anche persone che speccono coscientemente naturalmente poi sono squalificati ma questo non conta poi la gente comunque va a sentire allora ecco come secondo me e finisco perché aspetta che è spegni il mio cellulare perché e spesso sta suonando e quindi diciamo tutto questo pone il problema di come fare informazione seria in un mondo dove l'emotività conta sempre di più se voi prendete i vecchi giornali settimanali l'espresso dei primi numeri dei primi anni era quattro folli adesso è un libro perché perché ci occorrono tante pagine pubblicitarie poi bisogna andare a cercare tutto da tutte le parti allora ma questo riguarda i giornali ma anche la televisione e allora noi abbiamo adottato un sistema che è quello che ha adottato questo vale un po' anche per tutti i giornali ma soprattutto un sistema che cerchi di attrarre le persone con una forma divertente utile o interessante o intrigante tutti i temi più difficili noi li abbiamo trattati per esempio con i cartoni animati di Bruno Bozzetto per me è un genio del cartone animati allora abbiamo fatto con quello la meccanica quantistica l'entropia l'embriologia i superconduttori la relatività e tutte quelle cose in cui se voi arrivate con una telecamera per filmare la meccanica quantistica non c'è niente da filmare c'è una lavagna sulla quale fare dei segni delle frecce oppure dei pupazzetti che spiegano bene le cose e lo abbiamo fatto con grandi specialisti delle varie materie che si divertivano anche loro a creare delle gay allora ecco quello che è un po' sapete noi siamo molto fieri di poter andare nella collocazione più pregiata quella della prima serata di Rai 1 e lo scorso anno come sempre abbiamo fatto nove puntate abbiamo vinto otto serate su nove come si dice nel nostro gergo cioè l'ascolto maggiore della serata fatta da un programma di scienza e di tecnologia tenendo presente che il pubblico al quale ci si rivolge è veramente molto trasversale e l'Italia lo sappiamo non è che abbia un punteggio culturale di istruzione molto alto perché la formula è quella di mettersi dalla parte degli scienziati per i contenuti e dalla parte del pubblico per il linguaggio un'ultima cosa che però è una battuta divertente quando scrivi il mio primo libro tanti anni fa nel 72 era un libro che si intitolava l'uomo e la marionetta cioè i fili genetici e ambientali che creano il comportamento umano un po' riprendendo il discorso anche che ho fatto poco fa questo libro fu letto da una signora che mi scrisse una signora di Varese e questa signora mi ha scritto dicendo guardi io la devo ringraziare perché io sono interessato a questi argomenti sono curiosa ma solitamente quello che leggo poi arrivato a un certo punto non riesco più a capire andare avanti perché il linguaggio è difficile mentre il suo libro l'ho capito tutto perché è scritto in modo piacevole e scurrile allora io ho risposto a questa signora ringraziandola lei mi ha riscrito è venuto fuori che era una signora che non aveva potuto andare oltre la quinta elementare perché per famiglia aveva potuto andare a lavorare era un'infermiera una persona intelligente che cercava di coltivarsi ma aveva il problema la barriera del linguaggio ecco allora se uno e quando dico il linguaggio vuol dire tante cose non solo le parole vuole dire per esempio nel nostro caso il modo di trattare un argomento di porlo come piccolo giallo oppure di utilizzare delle fiction oppure di costruire delle fiction per spiegare una cosa oppure i cartoni animati o le animazioni oppure tanti metafori tanti esempi e sempre con un linguaggio comprensibile questo è tanto più importante oggi perché in questo modo le persone possono leggere io ho scritto 39 libri e ho venduto una marea di copie credo che di essere arrivati 4 milioni di copie arrivate ovunque non solo in persone colte ma ci sono dei tassisti che mi chiamano degli operai che hanno l'elite perché anche lì lo sforzo è quello di dire se un paese vuole crescere non può crescere solo un'elite il tessuto anche perché l'opinione pubblica è quella che poi accetta e capisce che certi indirizzi sono importanti cioè è un lavoro il nostro quello dei giornali della televisione e di tutti coloro e anche che fanno insegnamento è di formare un'opinione pubblica che sempre più capisca i problemi del nostro tempo e che veda il futuro e non soltanto i 20 centimetri intorno a 6 perché proprio questo è il problema noi tendiamo a reagire a una situazione di rischio quando abbiamo di fronte a noi il pericolo e il breve termine riuscire a pensare in medio breve medio lungo termine è tipico delle menti illuminate e purtroppo c'è un po' di oscurità in giro e quindi c'è bisogno di fari che pennellino un po' di luce e che in modi giusti tocchino i punti anche sensibili delle persone in modo da aiutare questo paese a crescere grazie allora abbiamo abbiamo due dritte su come valutare le notizie tutte magari contengono un'emozione in alcune sono emozioni funzionali alla importanza della notizia e al farcela ricordare altre volte invece sono funzionali a fare dei click che portano del denaro a qualcuno mentre ingannano la nostra mente questa è una prima poi tutti credo abbiamo memorizzato quello che ci ha detto Piero Angela con l'episodio dei piedi e della schiena abbinate quella sensazione a tutto quello che lui vi ha detto e non lo dimenticherete più proprio perché avete impegnato in quel momento non solo la corteccia ma anche la migdala ma anche l'ippocampo questo è un po' quello che vi ha detto Piero Angela facciamo un test vi ricordate chi si ricorda dov'era il 14 di agosto alzi la mano forse avete provato un'emozione nella prendere una notizia il 14 di agosto vedete che la ricordate ecco applicate questa tecnica senza buttare giù ponti però applicate questa tecnica anche alle nozioni scolastiche in generale nella vostra vita per le cose che ritenete importanti da ricordare vedrete che funziona allora grazie se c'è non ci sono domande da mettere su Instagram in questo momento mi viene detto io passerei se ci sono domande dal nostro gruppo di ascolto non ancora non ancora dopo tutte e tre dopo benissimo allora la parola a Juan Carlos De Martin che ci parlerà della comunicazione a lui anche dal punto di vista delle tecnologie che oggi abbiamo io per primo avrei un problema cioè internet la possibilità di utilizzare questa grande ricchezza è un po' come l'aria che respiriamo però all'inizio era era aria che respiravamo tutti alla pari adesso c'è qualcuno che ci guadagna molto su questa aria che respiriamo è un po' come se avesse sequestrato un pezzo dell'atmosfera e questo pezzo adesso si chiama Facebook si chiama Google e così via tutte cose bellissime utili che sembrano gratuite ma che invece poi paghiamo indirettamente qualche volta non accorgendocene con l'essere profilati e così via allora io sarei molto contento di sentire da un esperto molto profondo su questi temi come Juan Carlos De Martin una dritta per navigare sapendo dove orientare il timone grazie grazie molte a Piero Bianucci per questa introduzione e sono molto contento di essere qui nell'aula magna del mio Ateneo del Politecnico di Torino anche in funzione del ruolo che ho da qualche mese di delegato del Rettore per la cultura e la comunicazione quindi in realtà incontri come questi che abbiamo organizzato con la Fondazione per la Scuola con Piero Angela fanno proprio parte di questo rinnovato desiderio da parte del nuovo Rettore Guido Saracco di fare due cose in particolare la prima è di rafforzare il nostro contributo a formare non soltanto futuri lavoratori quindi futuri architetti designer urbanisti e ingegneri ma anche di contribuire allo sviluppo di individui di persone che venendo da noi a 19 anni non hanno assolutamente ancora completato il loro percorso anche le neuroscienze ci dicono che ancora per parecchi anni il cervello dei giovani adulti è ancora in tumultuoso cambiamento e quindi mentre siete all'università avete ancora sicuramente bisogno di un aiuto a sviluppare la vostra personalità la vostra individualità e come cittadini perché non siamo soltanto lavoratori non siamo soltanto ingegneri siamo appunto anche esseri umani e cittadini e quindi iniziative come quelle che ci ha proposto Piero Angela che avevamo già accolto nella precedente edizione e che stiamo portando avanti in questa seconda edizione vanno esattamente in questa direzione quindi sono particolarmente contento e seconda cosa l'università come motore di cultura non soltanto per la comunità accademica ma anche per la società e quindi iniziative non soltanto specialistiche in senso stretto come quelle che organizziamo praticamente tutti i giorni ma anche iniziative con su temi di grande attualità sui nostri tempi sulle sfide future rivolte in questo caso in primis a voi studenti ma anche tramite lo streaming e tramite la registrazione anche alla società perché chiunque può vedere questi incontri quindi particolarmente contento di essere qui ad affrontare un tema amplissimo è un tema che si poteva affrontare da diversi punti di vista ovviamente ne ho scelto uno in particolare anche per stare nei tempi il titolo in realtà dovrebbe essere come internet sta cambiando la comunicazione perché in realtà il modo in cui le tecnologie digitali usiamo internet per dire in realtà le tecnologie digitali stanno cambiando la comunicazione è in costante cambiamento costante cambiamento a volte è evidente Facebook annuncia un nuovo cambiamento del modo in cui selezionano le notizie ma in moltissimi casi opaco non ci rendiamo conto che gli strumenti che utilizziamo quotidianamente come fatemi citare i motori di ricerca quindi Google e altro esempio Facebook in realtà cambiano quotidianamente quindi in realtà i risultati di ricerca che vediamo che sono fondamentali modo per accedere a informazioni e notizie e l'algoritmo che decide la composizione di quella colonna centrale di una rete sociale come Facebook come Instagram che è più popolare tra i giovani in realtà l'algoritmo sta costantemente cambiando e non siamo tenuti informati di questi cambiamenti da un certo punto di vista è normale che sia così da altri invece rende un po' misterioso capire perché vediamo ciò che vediamo cioè la grande domanda dei tempi del digitale è ma perché vedo ciò che vedo sullo schermo e la risposta sta in algoritmi proprietari tendenzialmente segreti che soltanto occasionalmente diventano oggetto di un confronto pubblico o di un dibattito pubblico allora con questa premessa da non addetto ai lavori io non sono un giornalista anche se ogni tanto mi capita di scrivere per un quotidiano quindi quello che vi dirò è quello che da ingegnere informatico o da semplicemente da cittadino mi sembra di poter dire su questo argomento tra le tante cose che si potevano dire lasciate che introduca un punto di partenza un dato tecnico che chiaramente cercherò di mantenere il più semplice possibile il dato tecnico sono tre dati tecnici il primo internet internet come sistema postale l'analogia con il sistema postale è veramente calzante che recapita automaticamente buste di dati che possono contenere rappresentare articoli di un quotidiano musica video eccetera recapita queste buste da ovunque a ovunque vuol dire da qualunque nodo di internet a qualunque altro nodo di internet indipendentemente dal contenuto dal mittente dal tipo di dispositivo quindi è un sistema postale molto efficiente che smista buste ciecamente potremmo dire le porte a destinazione e questa linea di principio non è interessato ai contenuti non è interessato dire lo manda con Carlos De Marti non è interessato al fatto che arrivi in Tasmania se non per arrivare fisicamente a quel computer in Tasmania e non è interessato al fatto che lo manda con uno smartphone con un telefono di casa con qualche altro dispositivo secondo elemento quella applicazione che gira su internet molti tendono a confondere internet con il web il web è arrivato 20-30 anni dopo ed è un'applicazione che gira su internet e che ha introdotto un formato universale per i contenuti l'HTML prima d'allora io sono vecchio a sufficienza per ricordarmelo uno girava su internet pre-web e c'erano mille formati e molto spesso uno non aveva il software necessario per aprire quei formati quando arriva il web invece c'è una lingua universale che è l'HTML che tutti possono capire e possono usare gratuitamente liberamente c'è un modo semplice per pubblicare i contenuti questo è decisivo anche per il discorso di oggi c'è il web Tim Berners-Lee questo dice giovane ricercatore inglese che stava a Ginevra inventa un modo per pubblicare e lo immagina come un modo alla portata di chiunque lui si immagina utopicamente un web dove ognuno ha il proprio sito e pubblica ciò che desidera pubblicare e questo è catturato da quell'acronimo HTTP che molto spesso ci troviamo a scrivere per navigare su internet e terzo ed è questo il modo più semplice per spiegarvi che il web è un'applicazione che per usare il web avete bisogno di uno specifico software che è il browser Firefox, Chrome Opera e tanti altri Safari eccetera e con questo software il browser il navigatore come si diceva una volta posso trovare contenuti su internet navigare saltare dall'uno all'altro grazie link in maniera molto intuitiva questo è ciò che comincia a diffondersi a metà degli anni 90 quindi più o meno 23-24 anni fa è poi diventato di comune utilizzo in questi ultimi 15 anni il terzo e ultimo dato tecnico è lo smartphone introdotto il primo iPhone è stato introdotto nel 2007 è diventato di diffusione amplissima in questi ultimi 5-6 anni che un computer da tasca quindi quasi costantemente con noi a bassissimo costo perché ormai i costi sono stati abbattuti in maniera drastica sempre connesso internet quindi è un nodo di internet di quelli che citavo all'inizio che possono spedire buste di dati a qualunque altro nodo di internet e di facilissimo utilizzo perché l'utilizzo del smartphone e questa è la grande innovazione della Apple di Steve Jobs è quella di un'interfaccia accessibile praticamente a chiunque da un bambino di due anni a una persona molto anziana che non ha mai usato un computer in vita sua ebbene sia internet che il world wide web l'internet nata quasi 50 anni fa nella sua prima versione il web appunto 25 anni circa sono globali badate che questa è una parola importante anche per il seguito di quello che voglio raccontarvi non sono internazionali sono globali e poi approfondirò questo aspetto tra un istante quindi e concludo il dato tecnico chiunque al mondo tra i miliardi connessi a internet ce ne sono ancora miliardi non connessi ma tra chi è connesso a internet può comunicare con chiunque altro al mondo teoricamente senza filtri teoricamente praticamente sempre ovunque grazie allo smartphone che posso usare ovunque che è sempre connesso e sempre con me e questo è rivoluzionario in tutti i modi possibili di comunicazione da uno a uno come il telefono che ha 140 anni ed è uno da telefonata da uno a uno nella maggior parte dei casi da uno a molti come mezzi di comunicazione di massa i giornali nella forma cartacea e poi chiaramente la radio e la televisione da molti a molti e in tutte le altre configurazioni che possiamo immaginare gruppi ristretti gruppi segreti eccetera tutte queste modalità sono racchiuse in un unico dispositivo mentre una volta erano media separati c'era la radio c'era la televisione c'era la posta la corrispondenza c'era il telefono e così via questo non è mai successo prima e gli studiosi di questi fenomeni sociologi psicologi eccetera filosofi dicono siamo ancora al punto di non aver ancora concettualizzato le vere implicazioni di questo dato di fatto inedito nella storia umana concludo il dato tecnico allora possiamo mettere in evidenza moltissimi aspetti negativi Piero Bianucci ricordava la sorveglianza cioè il fatto che questi dispositivi hanno una doppia faccia noi li utilizziamo per fare certe cose ma loro usano noi e sorvegliano noi ma partiamo dagli aspetti dal mio punto di vista positivi è un inconfutabile trionfo della libertà di espressione se qualcuno ci avesse raccontato ai tempi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo di Renor Roosevelt e altri del 48 ci avesse fatto uno scenario come quello che avevo appena fatto probabilmente avrebbero detto il principe dei diritti fondamentali che la libertà di espressione avrebbe trovato grazie a questa tecnologia la sua massima espressione è un'inconfutabile democratizzazione del diritto di comunicare anche a un pubblico potenzialmente vasto la possibilità di accedere a un pubblico vasto se io salgo sulla famosa scatola di sapone di Hyde Park raggiungo 30, 20, 10 persone che passano lì davanti certamente non 10.000 o un milione oggettivamente internet e in particolare il web hanno reso possibile invece questo l'hanno reso possibile poi è molto improbabile che io raggiungo un milione di persone perché è facile parlare ma è difficilissimo farsi ascoltare ma prima era anche impossibile perché dovevo accedere a un mezzo di comunicazione di massa e inconfutabile qua diventa invece ambiguo progressivo sgretolamento di un sistema che è durato dalla fine della seconda guerra mondiale con tutto ciò che ne consegue nel bene e nel male noi siamo ormai molti osservatori stanno lo dicono da parecchio tempo ma diciamo che si sta intensificando l'osservazione che un mondo concepito dopo le catastrofe degli anni 20 e 30 della seconda guerra mondiale sta concludendosi da tanti punti di vista anche da quello comunicativo e infatti vi dico che il sistema delle comunicazioni ovviamente e necessariamente è figlio di un sistema più importante a monte che è l'ordine internazionale ed è per questo che avevo detto attenzione a questa parola internazionale e globale e infatti voi siete molto giovani ma chi ha un po' più di anni a un certo punto se va con la memoria a pensare in questi ultimi 20 anni si accorge che l'uso della parola internazionale è sceso ed è aumentato progressivamente l'uso della parola globale è una differenza molto significativa perché il sistema post seconda guerra mondiale quello che adesso sta manifestamente entrando in crisi era un sistema di comunicazioni nazionali con un sistema un poderoso sistema anche normativo dei media nazionali degli enti pubblici nazionali eccetera eccetera che erano inserite a loro volta in un sistema in un ordine internazionale di comunicazione il tutto orientato già le prime radici sono gli anni 10 e 20 del novecento a dar forma al consenso nazionale internazionale dar forma al consenso vuol dire con la diffusione del suffragio universale si teorizza anche esplicitamente a partire dalle Stati Uniti la necessità di aiutare gli elettori prima maschi e poi alla fine anche le donne a votare a ragion veduta a votare informati e quindi a dar forma al consenso prendetelo pure anche in modo positivo anche se c'è un elemento di paternalismo di fondo molto chiaro anche nelle discussioni degli anni 20 cioè dobbiamo indurre le persone a pensare giusto in un certo senso spesso di ottimo livello professionale il direttore De Bortoli lo potrà confermare il professionalismo del giornalismo coincide quasi con lo stesso periodo quindi anni 10 20 Pulitzer la deontologia professionale eccetera e quindi questo è questo impianto questo modo di intendere la informazione professionale in questi ultimi 40 anni iniziano prima con gli anni 70 poi in questi ultimi 40 anni un doppio movimento ovviamente sto semplificando dei fenomeni storici molto complessi quindi perdonatemi se è molto schematico però da una parte i media tradizionali si concentrano grandemente ci sono alcune rappresentazioni grafiche per esempio dei media negli Stati Uniti che in questi ultimi 30 anni si sono concentrati in maniera assolutamente drastica hanno chiuso centinaia e centinaia di giornali tipicamente più piccoli di provincia e anche la proprietà si è fortemente concentrata quindi c'è nonostante l'apparente proliferare di mezzi una perdita di pluralismo registrata e documentata da molti e anche ovviamente il sospetto di una perdita di indipendenza nel momento in cui la concentrazione economica diventa cose forti quindi questo è un movimento che coincide con quest'ultimo periodo storico contemporaneamente e simultaneamente internet diventa la rete globale internet non è più legata ai sistemi nazionali nasce dagli Stati Uniti ma è una rete globale che viene presentata proprio come è anche teorizzato che sia al di fuori del sistema normativo anche tipico tradizionale dei media nazionali a cui su cui tendono a convergere tutti i media questa anche per una scelta politica esplicita degli Stati Uniti inizio anni 90 giornali televisione cinema con un moltiplicarsi strabiliante di voci di qualità totalmente eterogenea quindi dai siti più più folli a anche ovviamente siti di grandissima qualità anche se ribadisco è molto facile pubblicare molto molto più difficile farsi leggere quindi grandissima libertà di espressione non si traduce in libertà anche o diritto di essere ascoltati di essere letti ovviamente il tutto in questi ultimi anni direttamente nelle tasche di miliardi di persone grazie agli smartphone quindi non più quello schermo nel salotto delle case che veniva acceso a una certa ora del giorno ma quasi costantemente su di noi e ci sono dati molto interessanti su quante volte guardiamo questi schermi a che ora del giorno della notte li guardiamo dei fenomeni di vera e propria dipendenza che creano ebbene a livello nazionale sempre da e sono molto interessato a sentire quello che dirà il direttore De Borto a livello nazionale penso sia abbastanza ormai accettato che in media tradizionale non hanno più il monopolio dell'informazione almeno nei paesi democratici quindi le fonti di informazione non sono più i giornali e le televisioni ma sono ovviamente i molti diversi eterogenei opachi complicati esaltanti usate tutti gli aggettivi positivi e negativi legati al mondo di internet e a livello internazionale lo sottolineava di recente il grande economista Branko Milanovic un grande studioso della diseguaglianza che lui da ex-yugoslavo ha quindi un punto di vista interessante su questo tema la globalità di internet pur proveniente originariamente dagli Stati Uniti indebolisce un ordine della comunicazione che potremmo chiamare atlantico quindi dei vincitori della seconda guerra mondiale e crea un campo di gioco molto più multipolare molto meno ordinato molto più aperto alla mutua interferenza e su questo potremmo dire molto anche di temi molto recenti cioè il mondo il vecchio Branko Milanovic parlava di questo mondo transatlantico con questi straordinari quotidiani televisioni del nord Europa dello stremo occidente dell'occidente di grandissima qualità di qualità molto superiore a quelli della cortina al di là della cortina di ferro nel suo racconto l'individuo cioè noi voi noi e mi avvio la conclusione allora in questo scenario l'individuo si trova a godere di alcuni aspetti indagabilmente positivi ma allo stesso tempo anche di aspetti negativi su cui riflettere allora il punto di vista positivo più chiaro è legato a quel trionfo della libertà di espressione che vi dicevo cioè che il singolo se lo vuole se è capace può accedere a analisi dati primari fonte primari punti di vista anche i terodossi che quindi non avrebbero trovato spazio nella cosiddetta finestra di overton cioè questa finestra di ciò che è dicibile nei media tradizionali molto più facilmente di prima nel bene e nel male qua potremmo trovare tutti gli esempi che secondo noi sono negativi le persone hanno accesso a fonti di disinformazione e così via ma troveremo altrettante persone che diranno ma è anche invece positivo perché posso accedere a teorie analisi che sono invece come dire non benvenute nei media tradizionali il negativo oltre all'aspetto della sorveglianza questi dispositivi registrano tutto ciò che facciamo dove siamo quanta luce ambientale c'è in questo momento la mia posizione col gps eccetera eccetera e apre tutto un filone di riflessioni che magari emergerà nel confronto con voi nelle domande anche dal palco ebbene però mi concetto sull'aspetto strettamente di elaborazione delle informazioni allora in linea di principio noi singoli dovremmo avere sviluppare delle capacità critiche analitiche ancora più sviluppate e forti di prima quando ero piccolo io mi ricordo che ogni tanto alcune scuole alcuni insegnanti forse ancora adesso particolarmente attenti a questi aspetti facevano delle lezioni specifiche che insegnavano a leggere il giornale allora noi le statistiche ci dicono che voi il giornale non lo leggete inutile che ci prendiamo in giro ma insegnavano a leggere il giornale perché questo titolo perché questo titolo perché questo chiello perché in prima pagina in quindicesima pagina chi è questo giornale che posizione politica ha questo giornale chi è la proprietà di questo giornale e analogamente per la televisione ebbene questo tipo di come dire di educazione al consumo dei media che rimane totalmente valido ancora oggi andrebbe aggiornato per i media digitali e quindi dovremmo dire poter provare a rispondere ma perché vedo quel che vedo sul mio schermo perché se faccio una ricerca su google su una notizia escono questi risultati e non altri è dimostratissimo ormai totalmente assodato che i risultati della prima pagina di ricerca di google sono gli unici che contano dalla seconda pagina in avanti non contano e quando se uso facebook se uso instagram se uso twitter perché vedo quel che vedo ebbene abbiamo bisogno di dire oltre a imparare a leggere il giornale imparare a leggere i social media imparare a leggere internet trovo un blog che sembra apparentemente autorevole come faccio a capire se lo è veramente come faccio a capire chi è che scrive come faccio a capire chi ha registrato il dominio ebbene c'è bisogno di questo tipo di educazione e in parte lo facciamo anche qui in questo politecnico anche se in un singolo corso andrebbe diffuso molto di più però ritengo che sia ingiusto oltre che utopico lasciare tutta la responsabilità dell'individuo quindi quelli che sostengono l'unica soluzione a questa proliferazione a questa una sorta di impazzimento tra il gioioso e il folle dell'informazione digitale la risposta è tutta nella educazione nell'istruzione del singolo questo è ingiusto è utopico perché utopico perché è impossibile aspettarci che tutte le nostre persone lo possano fare è ingiusto perché è come scaricasse interamente la responsabilità sul singolo quindi se tu singolo rimane ingannato problema tuo avresti dovuto essere più smaliziato e più competente è un po' troppo mi sembra mi sembra appunto ingiusto ma dall'altra parte vogliamo evitare un ritorno al paternalismo cioè il paternalismo vuol dire è complicato il mondo non vi preoccupate ci pensiamo noi a dirvi cosa pensare e quindi poi indirettamente la democrazia ha cosa votare come fare e qua concludo allora un algoritmo ci salverà molti pensano che potrebbe essere una soluzione tecnica a questo problema cambiamo l'algoritmo di Google cambiamo l'algoritmo di Facebook rendiamolo più trasparente allora si possono fare tutta una serie di cose interessanti soprattutto dal punto di vista della trasparenza perché vedo quel che vedo torno a ripetere ma non credo sia la soluzione decisiva la soluzione decisiva non è tecnologica credo non sono certo l'unico dirlo sulla indispensabilità in una democrazia dei cosiddetti corpi intermedi ovvero non il singolo davanti al suo schermo e potenti forze economiche politiche che manipolano i bit e gli mandano cose sullo schermo senza nulla in mezzo ma un ritorno e vedo anche colleghi anche giovani che si occupano di questi temi come scienziati politici comunque interessati a questi temi un ritorno di attenzione molto importante su una cosa che io sono cresciuto come dire pensando che fosse una cosa vecchia e che invece più passa il tempo ritengo siano assolutamente forse indispensabili cioè i partiti politici e quindi torna e concludo questo articolo 49 della Costituzione dove vedete dice tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale però ho il sospetto e mi piacerebbe sentire magari qualche costituzionalista per confermare o meno il mio sospetto che qua c'è scritto hanno il diritto lo avremo nel programma infatti so che c'è nel programma sarebbe bello avere un'interazione in tempo reale sospetto che dietro questo hanno il diritto ci fosse un coinvolgimento profondo sulla assoluta indispensabilità di questo tipo di strumento che serve a che cosa serve a partiti sono delle parti quindi che vuol dire una certa visione del mondo in competizione con altre visioni del mondo ma poi delle strutture permanenti che hanno scuole che fanno educazione dei cittadini che formano dei quadri che fanno iniziative culturali che aiutano quindi a elaborare secondo una certa impostazione di visione del mondo aiutano a elaborare l'enorme quantitativo di informazioni di problemi che affrontiamo che non possiamo affrontare singolarmente perché nessuno di noi ha il tempo di approfondire tutto abbiamo bisogno di aiuto abbiamo bisogno di un'iniziativa collettiva e forse questa è se non la soluzione qualcosa da riscoprire di straordinariamente importante che era assolutamente chiaro a quella generazione che ha creato il sistema di cui stiamo vedendo adesso un indebolimento grazie 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 a Juan Carlos de Martin perché noi abbiamo parlato nella prima parte di questo incontro dell'articolo 21 della Costituzione quello che garantisce la libertà di espressione e quindi anche la libertà di informarci ma l'articolo 49 è quello che lo rende davvero efficace senza l'articolo 49 il 21 da solo non può funzionare questo è direi uno dei messaggi da portare a casa il messaggio fondamentale forse da portare a casa oggi da quello che ci ha detto Juan Carlos de Martin e adesso direi che il piatto è servito per Ferruccio de Bortoli perché ha davanti a sé una serie di osservazioni di problemi di riflessioni e poi come editorialista del Corriere della Sera vive continuamente questo discorso della mancanza dei corpi intermedi del governo che funziona con un tweet e così via della polarizzazione delle opinioni quando lo vediamo nei dibattiti televisivi ogni volta è grande lo sforzo di Ferruccio de Bortoli per mettere qualche sfumatura nei discorsi che di solito sono tutti in bianco e nero mentre di solito sono le sfumature quelle che veramente contano ecco il piatto è servito adesso a Ferruccio de Bortoli grazie grazie bene grazie grazie a voi per la vostra presenza grazie dell'invito ma il titolo del mio intervento è tutti giornalisti e nessun giornalista questo è un bellissimo titolo con il punto di domanda che riassume un po' quello che è accaduto nel mondo dell'informazione della stampa dei media negli ultimi quarant'anni io ho cominciato a fare questo mestiere condiviso da alcuni miei colleghi qui presenti a cominciare da Piero Angela quando sostanzialmente le tecnologie delle informazioni erano pressoché uguali a quelle di Gutenberg cioè noi abbiamo cominciato quarant'anni fa quando i giornali si facevano con il piombo e i titoli venivano composti con dei caratteri mobile esattamente come alcuni secoli prima in quarant'anni è cambiato tutto più volte con una velocità sorprendente io non ho alcuna nostalgia di quegli anni perché comunque quegli anni come diceva prima il professor De Martin erano anni anche di un paternalismo nell'informazione che aveva tutti i suoi aspetti negativi anche se naturalmente io vi sono nostalgicamente legato dal punto di vista dell'aspetto romantico della mia professione con l'avvento di internet e del World Wide Web sostanzialmente l'utente si è collocato allo stesso livello di potere nella gestione dell'informazione del giornalista che invece 40 anni fa aveva un potere pressoché assoluto i lettori scrivevano ai giornali e naturalmente i giornali qualche volta rispondevano e quando veniva questa risposta era ritenuta sostanzialmente una grande attenzione nei confronti del lettore oggi se non si risponde più alle mail a ciascun lettore penso ma questa viene presa come una lesione del diritto che questo lettore ha ad avere un rapporto anche personale con il proprio organo di informazione quindi c'è stato un sostanziale livellamento anzi si è creato un fenomeno nel quale l'informazione è stata fatta dallo stesso utente nel bene e nel male possiamo dire che il potere è passato in pochi anni da coloro che avevano questo monopolio dell'informazione e potevano anche consentirsi tutta una serie di vezi di difetti e di delitti perché ovviamente ne sono stati commessi e quindi avevano un potere di manipolazione dell'opinione pubblica a seconda naturalmente dell'impostazione anche politica che potevano avere detto questo abbiamo avuto dei fortunatamente abbiamo avuto dei grandi maestri dei meravigliosi giornalisti dei quali non possiamo fare a meno oggi anzi oggi che abbiamo delle autostrade di informazione che sono percorse da tantissimi elementi da tantissime notizie abbiamo bisogno comunque di persone che ci diano una spiegazione di ciò che sta sotto la superficie che ci diano un metodo per comprendere la realtà che siano autorevoli credibili e che ci proteggano soprattutto dalla peggiore insidia che io vedo che è quella di una censura che è fatta inondando l'utente e il navigatore di cose inutili se non false al punto che l'utente il lettore o il navigatore non è più in grado di distinguere ciò che è sostanziale da ciò che è fibero ciò che è falso da ciò che è vero e questa forma di censura è ancora più subdola e dannosa della censura classica che si faceva ai tempi dell'informazione più concentrata che era quella di impedire di pubblicare una notizia oggi il problema di fondo è quello di mettere in condizione gli utenti i navigatori nell'esercizio della loro libertà di essere dei cittadini responsabili cioè di essere di non essere sudditi di non essere naufraghi qualche volta abbiamo molti naufraghi della rete e di riuscire naturalmente a distinguere ciò che ha un'attinenza e che quindi può portare ad un esercizio più consapevole della cittadinanza non soltanto nella scelta nel momento del voto ma anche in qualsiasi normale atto della quotidianità ecco per esempio Angela ha toccato all'inizio il tema delle fake news le fake news sono ovviamente sempre esistite il potere ha sempre manipolato l'informazione e anche la storia in maniera estremamente sofisticata anche quando la tecnologia non c'era perché questo è sempre accaduto oggi che cosa c'è in più ed è un elemento di riflessione che volevo porre alla vostra attenzione certamente se io scrivo una sciocchezza nel giro di pochi minuti quando il mio articolo viene pubblicato sul sito di un giornale oppure viene ripreso da facebook a twitter se io dico una sciocchezza in pochi minuti vengo scoperto noi abbiamo avuto legioni di colleghi che hanno fatto grandissima letteratura sulle loro impressioni e quindi sono diventati famosi anche non avevano ovviamente nessuno che era in grado di controllare se i loro racconti magari esotici corrispondevano alla verità oppure no Montanelli una volta mi disse guarda io mi sono divertito tantissimo nel fare la storia di Roma perché nessuno ero convinto è assolutamente certo che nessuno mi avrebbe querelato quindi potevo assolutamente scrivere qualsiasi cosa quindi c'è un elemento di controllo pressoché istantaneo però che cosa accade e questo è l'elemento che volevo portare alla vostra riflessione accade che cose che sono ritenute e scoperte come false vengono però largamente condivise e allora scatta quella che secondo me è la trappola della verosimiglianza cioè se una cosa è falsa ma viene condivisa dal mio gruppo dalle persone con le quali io ho un rapporto anche privato che ci mettono un like che ci mettono un mi piace penso ma me viene il sospetto che qualcosa di vero ci possa essere magari oggi quella cosa è falsa ma in futuro potrebbe avere un addentellato con la realtà e qui c'è una trappola della verosimiglianza che credo faccia parte molto del dibattito pubblico la campagna della Brexit è stata fatta sulla base di fake news su quello che era il costo che il Regno Unito sopportava appartenendo all'Unione Europea subito dopo il voto della Brexit alcuni dei sostenitori del leave cioè del fatto che il Regno Unito lasciasse l'Unione Europea hanno detto beh noi abbiamo volutamente dato al pubblico delle cose false ma l'importante è che ci sia una cosa falsa detta per un giusto fine beh insomma è stato dichiarato insomma e Trump che è il più grande frequentatore di Twitter come sapete oggi tra l'altro ha dato un commento alle elezioni di midterm di ieri dicendo che la sua era una tremendous success quindi dicendo ho vinto su tutta la linea e infatti si discute nel dare un giudizio su quello che è accaduto ieri partendo dal giudizio sicuramente un po' esagerato che lo stesso Presidente dà rispetto alla propria performance durante le elezioni di midterm questo è un fatto ovviamente allora la trappola della vera simiglianza è uno diciamo degli effetti collaterali di una grande piazza di libertà nella quale tutti siamo sostanzialmente diventati giornalisti nella quale però tutti abbiamo una certa difficoltà ad avere una selezione delle cose importanti e se non si ha una selezione gerarchica dal punto di vista della loro importanza oggettiva delle cose che hanno una rilevanza per la nostra vita comune per la nostra vita quotidiana evidentemente noi ci sentiamo dispersi oppure ci sentiamo esclusi oppure addirittura dall'altra parte ci sentiamo così potenti da non credere più a quello che dicono gli esperti dal banalizzare i problemi dal semplificarli troppo anche questo il tema della semplificazione eccessiva che avviene nella rete è un altro degli effetti collaterali sui quali sarebbe importante discutere allora quale può essere il ruolo del giornalista ovviamente il giornalista può anche scomparire io mi auguro di no naturalmente può certamente evolvere può sicuramente essere la persona con una preparazione che spezza il velo della superficialità che nei social network è particolarmente presente e da sostanza profondità ai ragionamenti che vengono fatti porta delle nuove informazioni cioè delle notizie e guardate non è un caso che i social network si alimentino molto ancora di ciò che scrivono i giornali i giornali sono paradossalmente poco comprati poco letti molto discursi e di fatto condizionano molto di quello che è il dibattito pubblico che avviene sulla rete anzi assistiamo ad un fenomeno degli articoli geneticamente modificati che vengono scritti in un certo modo rilanciati in un altro modo discussi in un modo ancora diverso per cui alla fine hanno una conformazione letteraria e di senso che è assolutamente distaccata da quella che era l'origine degli articoli questo per esempio è un altro aspetto sul quale sarebbe interessante discutere penso ma poi il giornalista ovviamente deve andare a illuminare le parti che anche con internet e con il world wide web rimangono oscure rimangono prive della giusta illuminazione di un'informazione oggettiva responsabile e professionale allora laddove non c'è una grande trasparenza di informazione beh il merito non viene riconosciuto ci sono interessi di un certo tipo i diritti vengono calpestati per esempio a proposito di diritti calpestati per certi versi l'anonimato è stato sempre difeso nella storia perché rappresentava anche un modo attraverso il quale ci si opponeva ad un potere costituito per cui insomma si potevano dire delle verità senza dimostrare la propria identità ovviamente nei social network il tema dell'anonimato è un tema particolarmente delicato perché ha portato per esempio ad un prorompere di discussioni volgari di squadrismo digitale con l'emergere di tutta una serie di odi sospetti anche fantasmi totalitari che pensavamo fossero stati seppelliti nel novecento e invece come si diceva prima nel bene e nel male ovviamente un grande strumento di comunicazione fa riemergere tutto e quando riemerge tutto non siamo più in grado di distinguere beh allora lì abbiamo bisogno di persone autorevoli esperte consapevoli professionali che ci raccontino anche che alcune cose che circolano nella rete non sono assolutamente vere e che non si può mettere sullo stesso piano in un malinteso pluralismo quello che sostiene il no vax a quello che sostiene invece la necessità dei vaccini insomma perché evidentemente tutto questo va conto quella che è l'oggettività scientifica quello che è la realtà allora il ruolo del giornalista è ovviamente il ruolo di un intermediario che naturalmente deve trasmettere indagare scoprire gli aspetti che rimangono misconosciuti e come diceva prima a Piero Angela anche trasmettere delle emozioni perché un buon giornalismo si fa non solo con la testa ma si fa anche con il cuore così come un buon come un buon scrittore riesce a non solo a interessare il proprio lettore ma anche a rendere avvincente il proprio racconto e qui il sottile equilibrio è quello di essere oggettivi rispettosi della realtà guardate spesso i giornalisti polemizzano con i fatti quando i fatti contrastano le loro opinioni i giornalisti possono e debbono avere delle loro opinioni e anche il diritto di dirle ma non possono ovviamente piegare i fatti che descrivono le loro opinioni perché se no non fanno il proprio mestiere allora un grande giornalista come un grande scrittore è quello che ti fa vedere uno squarcio di realtà senza avere la presunzione di possedere la verità noi abbiamo visto in questa fase la perdita della rilevanza sociale della verità che non conta più tanto neanche quando si vota ma il giornalista lo scrittore è quello che vi fa vedere un pezzo di realtà che non avete visto così come nell'esempio che faceva all'inizio Piero Angel che vi dà un'emozione diversa e che soprattutto vi propone un punto di vista di osservazione della realtà di cui non avete tenuto conto perché nel web e soprattutto nei social network c'è una grandissima libertà ma il pensiero comune è un pensiero che si impone molto più facilmente e i pensieri laterali vengono volte schiacciati gli algoritmi selezionano le persone che pensano lo stesso modo e anzi danno in questo processo di confirmation bias a gruppi che sono legati da tutta una serie di vicinanze di interessi comuni le notizie che corroborano e opinioni che sono già state create mentre un buon giornalismo mette insieme persone che pensano in maniera diversa dialogano si riconoscono e soprattutto si ascoltano perché la risorsa scarsa di questo momento è l'attenzione e l'ascolto abbiamo tutti a disposizione tante informazioni ma il rumore di fondo non fa una buona informazione e non possiamo nemmeno pensare ci si possa informare correttamente facendo il surf sull'home page anche informarsi come lo studiare comporta un minimo di sacrificio non ci si informa bene con la comodità di poter avere a disposizione tutto con una sorta di sensazione di onnipotenza per cui il pensiero critico il dubbio il dubbio laico vengono assolutamente tralasciati io penso che un buon giornalismo possa essere utile ad una società se svolge indipendentemente da quello che è il modo attraverso il quale le notizie vengono recapitate non più probabilmente fra qualche anno spero più tardi possibile attraverso la carta con tutta una serie di altri strumenti che sono quelli di cui abbiamo parlato oggi ma rende il cittadino nella sua piena consapevolezza di essere tale senza essere schiavo di nessuno e magari nella consapevolezza che speriamo possa essere maggiormente affermata nei prossimi anni che i propri dati personali appartengono all'individuo che non li ha ceduti sono diritti indisponibili e che in qualche modo devono rappresentare anche il suo grado di libertà e questo suo grado di libertà non sta soltanto nella riservatezza che deve essergli garantita ma anche nella sua capacità di essere un navigatore consapevole un cittadino vero ed non un naufrago inconsapevole e perduto magari nella dimensione estremamente piacevole e affascinante di essere al centro del mondo magari essere connesso con tutti ed essere semplicemente solo con se stesso grazie grazie a Ferruccio De Bortoli implicitamente ha risposto a una domanda che ci è arrivata da Instagram che sostanzialmente diceva ma se i sentimenti influenzano in modo così prepotente le notizie perché i giornalisti ricorrono ai sentimenti beh De Bortoli ci ha detto in qualche modo l'emozione è lecita se è finalizzata a un approfondimento se è finalizzata ad attirare l'attenzione su un aspetto che non è stato fino a quel momento illuminato quindi non c'è comunque malizia nell'utilizzare l'emotività e i sentimenti anche lì dipende da come si utilizzano e questo giornalismo che è fatto di ascolto è proprio quello che manca e quindi la conclusione che abbiamo sentito è un giornalismo che è disposto a cambiare opinione ecco questa è una cosa che abbiamo perso come abitudine anche perché molte volte le opinioni ci vengono già presentate come fatti cioè per esempio si dà per scontato che gli italiani hanno un grande bisogno di sicurezza perché sono esposti a terribili pericoli se si dà già per scontato questo punto di partenza alcune conseguenze sono automatiche ma forse è il punto di partenza che andrebbe esaminato per vedere se corrisponde ai numeri ai dati che noi abbiamo e questo è molto difficile farlo ma è compito del buon giornalismo farlo e poi metterlo al servizio naturalmente anche della rete e lì poi ricomincia tutto il discorso ricomincia la discussione ma ricomincia partendo da elementi di oggettività che danno un senso al discorso e non portano necessariamente soltanto a una polarizzazione di bianco contro nero ci sarà spazio appunto per le sfumature e soprattutto non ci sarà questo grande rumore soltanto un grande rumore di comunicazione ma un grande silenzio dell'informazione perché sono due cose molto diverse come sappiamo la comunicazione e l'informazione internet è essenzialmente l'abbiamo sentito uno strumento di comunicazione lo possiamo usare per fare informazione ma questo è un momento successivo nel quale ci dobbiamo calare volontariamente qualunque cosa ne facciamo su internet è comunicazione non necessariamente è informazione se non mettiamo una intenzionalità nel nostro leggere nel nostro scrivere allora adesso è il momento del nostro campione di ascolto non facciamo lo share su quello che ci dite voi però cominciamo per esempio partiamo da Ilaria Tagliaferri che qui rappresenta il Politecnico chissà che impressione ha ricavato da quello che ha ascoltato Ilaria Tagliaferri chissà se ne ha suscitato dei problemi o dei dubbi o eventualmente delle contestazioni perché no buongiorno prima avevamo introdotto i temi di manipolazione dell'opinione pubblica e di fake news secondo cioè riguardo queste tematiche secondo una ricerca effettuata nel 2018 l'82% degli intervistati non saprebbe riconoscere una fake news uno dei modi più utilizzati per verificare le notizie che noi prendiamo da internet è cercare appunto una verifica da parte dei telegiornali o dei giornali delle grandi testate giornalistiche che come abbiamo detto prima possono aggiungere anche sostanza e profondità alle informazioni sempre però secondo la stessa ricerca il 40% dello stesso campione non si fida dei media perché ritiene che questi manipolino le informazioni come si può allora come possono allora proprio i giornali e i media porsi nei confronti di questo problema e come fa il lettore a riconoscere quello che è il buon giornalista descritto da lei prima dottor De Bortoli ci ha presentato un serpente che si morde la coda adesso bisogna tagliare il serpente è una domanda testata multipla insomma quindi no beh intanto c'è una qualità della rete che vorrei sottolineare cioè la rete premia chi chiede scusa chi dice mi sono sbagliato e non insiste nel continuare a commettere l'errore anzi se esiste a continuare a commettere l'errore viene addirittura massacrato al di là di quello che sarebbe un giusto un giusto rilievo allora intanto un buon giornalismo ci mette la faccia a una storia un giornale un giornalista ha una firma quindi ha una storia e quindi garantisce per quella che è stata anche la sua vita professionale di errori se ne commettono per carità le commettiamo ovviamente tutti insomma l'importante è quello che ci sia un rapporto con con il proprio lettore con il pubblico con il quale si ha una dimestichezza si ha una frequentazione insomma allora io posso sbagliare perché evidentemente nella mia vita posso sbagliare anzi devo dire che noi giudichiamo sempre dei fatti sulla base di come questi fatti ci si presentano in una determinata ora della giornata tant'è vero che uno dei problemi più delicati nel fare professione all'era di internet è quello che la tempestività purtroppo fa pregno sull'accuratezza cioè la rete vuole che io dica subito qualcosa mentre la mia prudenza professionale mi dovrebbe indurre ad astenermi qualche volta guardate i giornalisti non hanno il diritto di astensione che hanno un piccolo particolare questo un giornale esce ogni giorno un sito web si aggiorna dopo pochi minuti nei social network tu sei importante se comunque ci sei sempre e partecipi al dibattito a volte sarebbe più prudente astenersi perché non si hanno degli elementi per poter fornire una opinione e i fatti cambiano continuamente e noi sulla rete vediamo i fatti da un punto di vista solo da un punto di vista solo allora siccome i grandi giornalisti hanno fatto la storia ma io penso che quei grandi giornalisti continuerebbero a fare la storia anche nell'era di internet un grande giornalista come Lodovico Besozi dell'europeo non vi dice niente ovviamente ma fu mandato subito dopo la guerra a fare un servizio sulla morte del bandito Salvatore Giuliano Salvatore Giuliano e lui fece un attacco straordinario che fu esattamente questo di sicuro c'è solo che è morto punto in quell'attacco c'erano tutti i dubbi che stavano intorno alla notizia quello è un grande giornalista nel senso che è arrivato non si è fidato della verità ufficiale non si è fidato della verità ufficiale e ha continuato a scavare si è messo nella condizione degli altri si è posto dei dubbi non è diventato il terminale della comunicazione ufficiale o comunque della comunicazione interessata di qualche potere un buon giornalista fa così e poi dice ragazzi forse non ho capito nulla di questa cosa forse non ho capito nulla di questa cosa approfitto della presenza di Piero Angelo l'altro giorno sono andato a vedere il film The First Man che è un bellissimo film quando è finita la proiezione una signora che stava accanto a me e mi ha detto ma senta è un bellissimo film ma non ci siamo già mai andati sulla luna io ovviamente ho detto guardi io non sono Piero Angelo quindi non ho la possibilità però le faccio semplicemente lei pensi a quanto potrebbe essere sofisticata questa messa in scena quante persone avrebbe dovuto coinvolgere i russi cosa avrebbero potuto dire insomma ma se anche fosse stata una straordinaria messa in scena come pensano tutti quelli che credono le scie chimiche a tutto il resto che discende anche poi nella vita pubblica politica e tutto il resto li mi fermo perché non vorrei essere politicamente ma qualcuno un dubbio l'avrà pure avuto insomma io non potevo chiamare Piero ovviamente ho cercato di dare ma questo per dire che il la rete ha sollevato tutto un sospetto sul fatto che colore sono esperti che hanno studiato che fanno comunque parte di una sorta di mainstream cioè fanno parte comunque di un sistema che aveva o ha l'interesse di dare una descrizione della realtà di un certo tipo insomma io credo che i giornalisti pur con i loro difetti abbiano non si siano fermati di fronte alle verità ufficiali abbiano scavato e le migliori pagine del giornalismo non italiano il giornalismo italiano non è poi così male come pensiamo qualche coraggio l'ho avuto ha pagato anche molti prezzi dal punto di vista delle vite umane pensate a quanti giornalisti muoiono ogni anno e che soprattutto vanno a vedere con i loro occhi noi abbiamo bisogno oggi sempre di più di testimoni che vanno a vedere con i loro occhi e che non si fidano delle verità ufficiali che spesso i social network tendono a stratificare come una sorta di senso comune ecco quando sentite parlare di complotti sospettate a vostra volta un complotto perché a volte c'è Piero Angela volevo raggiungere un piccolo episodio divertente a proposito di non sono mai stati sulla luna quando usci il libro nell'edizione italiana siccome io avevo seguito da vicino tutto il volo a pollo per un anno ho seguito tutte le emissioni allora mi chiesero il parere e io dissi non comprate questo libro perché vi prendono per i fondelli questo fu usato nella campagna pubblicitaria e nel risvolto del libro perché il fatto è parlatene bene ma no ma parlatene allora il lettore dice ah tu dici che non è vero Piero Angela dice allora sono io che giudico non è così bisogna si entra in un discorso molto complesso perché su argomenti come questi adesso ci sono le prove perché hanno fotografato i siti con gli strumenti con le impronte però certamente c'è una tendenza al pensiero magico specialmente nel nostro paese che dilaga io ho ricordato molto di questi fenomeni così magici anche in medicina con l'omeopatia eccetera però il pensiero magico sta andando da tempo anche sulla politica cioè quando si promettono o si dicono cose che non si possono mantenere però basta dirle le cose per pensare che si possono realizzare e allora lì subentra io mi sono reso conto che non basta la razionalità per controbattere magari anche la competenza l'esperienza i dati c'è una speranza dentro gli individui che è più forte e ce l'ho e chiudo Giancarlo Benotti che è quel traduttore di tra l'altro del festival dei due mondi di Poleto che lui scriveva musica e aveva scritto un'opera intitolata La Medium e allora questa Medium alla fine si stanca ha anche un rimorso morale con fronte di queste persone perché li truffava allora li convoca e dice guardate li ho presi in giro per dei soldi e il tavolino non si muoveva da solo ecco la leva che lo fa e in fantasmi era mia figlia con il lezzuolo e questi in gramaglie perché parlavano con i defunti sono sconvolti però alla fine ed è così che finisce l'opera sì però ce lo faccio ancora e questa è la speranza anche di credere in cose che poi una molla fortissima che lo sappiamo muove le montagne in certi casi però allora lì l'informazione cozza contro queste emotività che si sovrappongono grazie per l'idea grazie di avermi confermato sul fatto che siamo andati sulla luna perché proprio è l'argomento di cui mi sto di nuovo occupando nel cinquantenario dello sbarco sto scrivendo proprio questa roba e sto vedendo anche quelle fotografie a cui alludeva Piorangel si vede addirittura lo scalpiccio degli astronauti in queste foto in altissima definizione probabilmente sono foto ritoccate allora sentiamo sentiamo chi sentiamo adesso Chiara Platania Buongiorno abbiamo visto durante gli interventi l'importanza che può essere che può avere l'emotività come strumento per i giornalisti e in generale per chi fa informazione ma c'è anche uno strumento diciamo più razionale più scientifico che l'informazione può utilizzare oppure bisogna affidarsi prevalentemente all'emotività Cioè posso cercare di capire meglio la domanda ci stai domandando se c'è una tecnologia che può smascherare le false notizie e aiutarci a trovare quelle vere Così pare un po' utopico Sì Diciamo c'è qualcosa che può aiutare il giornalista stesso a migliorare nella trasmissione dell'informazione perché sappiamo che la tecnologia è uno strumento per far diffondere l'informazione ma nella qualità della trasmissione ci sono dei mezzi scientifici Cioè come un giornalista può diventare più bravo mi stai domandando In un certo senso sì E beh ogni giorno che passa diventiamo più bravi perché abbiamo sbagliato qualcosa no di solito è così però sentiamo sentiamo Ferruccio De Bortoli su questo Ma intanto è chiaro che non abbiamo discusso di questo aspetto però il giornalismo cambia con le tecnologie insomma se pensate che il giornalismo anglosassone è quello delle cinque doppie W quello diciamo più classico a cui siamo anche dal punto di vista cinematografico letterario legato è ovviamente un giornalismo che cambia il suo modo di raccontare cioè cambia veramente il linguaggio nel momento in cui viene introdotto il telegrafo prima il giornalismo era un pezzo della letteratura un giornalista veniva mandato a seguire la guerra di Crimea e scriveva l'articolo che sostanzialmente era un capitolo di un romanzo che poi veniva mandato e pubblicato chissà quando in maniera del tutto contestualizzata rispetto al al fatto con e così come la televisione ha cambiato non solo il linguaggio del giornalismo televisivo ma anche il linguaggio del del giornalismo scritto quello che ovviamente che caratterizza questa fase straordinaria è la velocità attraverso la quale cambiano le tecnologie e la difficoltà nostra di pensiero pensate alla società pensate al diritto di inseguire la crescita esponenziale delle tecnologie mentre noi siamo abituati ad una visione lineare c'è poco da fare questo è il nostro limite se vogliamo oggi siamo in una fase di grande tecnologia e di basso pensiero che è esattamente l'opposto a quello che accadeva nel mondo greco c'è un grande pensiero e una modesta se non in inesistente tecnico tecnologia ecco questo per esempio allora però l'elemento è pensate gli algoritmi che possono ovviamente sostituire con la robotica qualsiasi attività umana no? per esempio pensate a quello che può accadere con un robot che segue un anziano e che quindi lo accudisce in tutte le sue necessità ma potete dire che quel robot che segue l'anziano possa sostituire un parente ad un amico che ha una parola ha uno sguardo e magari prende la mano in un momento di difficoltà non credo non credo credo che la la componente umana nella sua grande perfezione o imperfezione nella sua grande originalità continua ad essere fondamentale anche in una professione di questo tipo in una professione che certamente dovrà catturare l'attenzione prima lo dicevamo prima del lettore del navigatore dello spettatore e dovrà ovviamente avere un suo linguaggio una sua originalità è bello quel libro di Baricco The Game che vi esorto a leggere perché dà un po' questo tipo di rappresentazione allora io mi ricordo che i primi tempi in cui noi sapevamo esattamente che cosa volesse il nostro lettore attraverso le sue preferenze su internet adesso io scusate io sono da quattro anni che sono fuori quindi sono un po' arrugginito da questo punto di vista però se noi avessimo seguito le sue scelte sulla base dei click e dei mi piace non avremmo più fatto la cultura sulla base di questo avremmo riempito i nostri giornali di sesso denaro sport e del peggio delle abitudini allora io penso che tutto sommato il giornalista debba guardare tutto ciò che è uno strumento che orienta ovviamente che può orientare ma naturalmente che un grano sale se naturalmente tendendo conto che comunque bisogna fare qualcosa di diverso bisogna guardare anche bisogna interessare il proprio pubblico ci sarà qualcuno che sarà interessato fortunatamente a vedere qualcosa di diverso se no il giornalismo diventa l'esatta replica di quel rumore di fondo di cui vi parlavo e allora a questo punto è uno sciocco algoritmo passivo io allora se dovrò fare l'algoritmo passivo faccio un altro mestiere insomma e poi c'è quello che vi dicevo prima il rapporto personale poi non a caso per esempio i giornali pur classici che che hanno tutte le difficoltà che sono state ricordate prima vengono comunque riconosciuti come fondi attendibili sul web perché comunque hanno una storia hanno un'identità sono un passaporto sono anche il fatto che vi sentite un po' a casa vostra in in un mondo dell'etere e di internet che è molto fatto di format globali che non hanno più un rapporto con la propria comunità questo credo che sia importante e naturalmente non si tratta di essere contrari all'innovazione anzi assolutamente no bisogna naturalmente cavalcarle senza essere degli entusiasti acritici ma naturalmente tenendo conto che ci sono dei valori di fondo che io penso siano assolutamente intatti rispetto a quello che accadeva un tempo con tecnologie diverse grazie grazie allora credo che anche questa sia stata una risposta a Valentina Licari che ci aveva fatto quella domanda via Instagram e vorrei approfittarne per dire invece a Luca Baiardi che non so se ci segua in streaming a proposito grazie a De Martin che ha ricordato che siamo anche seguiti in streaming io ho mancato di buona educazione non ho salutato questi amici ma insomma ho davanti questa vostra platea di persone lontane che però ci state ascoltando e grazie di esserci ecco vorrei anche dire a Luca Baiardi che non so bene se ci abbia scritto dopo averci seguito in streaming oppure qui direttamente che la sua domanda che riguarda i vaccini avrà una risposta specifica proprio nel giorno in cui parleremo di come si fa un farmaco e sarà Garattini a parlarcene la domanda è rivolta a Piero Angela che direi la risposta ce l'ha già data perché ci ha parlato una volta scorsa dell'omeopatia e di come non sia scientifica l'omeopatia e come ci siano delle false opinioni in campo medico e una possa riguardare proprio anche i vaccini quindi la risposta è già stata data da Piero Angela sostanzialmente ma avremo una risposta più approfondita e soprattutto che viene da una fonte che è assolutamente autorevole nel campo quando avremo qui con noi Silvio Garattini che come sapete ha fondato e dirige da non so quanti anni ma certamente tantissimi molti decenni l'Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri allora abbiamo ancora una voce da ascoltare ed è la voce di Veronica Gregorio Virginia prego Virginia Liceo Camuro ah datemi i nomi giusti accidenti sì buongiorno io volevo chiedere dato che l'attenzione è riservata agli articoli online dai lettori è comunque di pochi secondi come può il giornalista concentrare tutte le informazioni in quelle poche righe senza omettere dati importanti ma allo stesso tempo catturando l'attenzione senza inserire per esempio delle fake news o comunque informazioni poco utili magari per catturare l'interesse mi sa che tocca di nuovo a Ferruccio De Bortoli guarda tu hai toccato un punto che è nodale per la professione insomma perché come sapete il successo è dato dalle visualizzazioni dai click dalle condivisioni allora c'è tutta una tecnica per intercettare i vari tag e quindi c'è un tema sul di per essere in qualche modo ripresi dai motori di ricerca insomma e lì ovviamente si tratta di inserire delle delle frasi chiave o delle parole chiave che possono in qualche modo far sì che la circolazione dell'articolo sia la più ampia possibile allora questa sicuramente io trovo che sia una tecnica di cui tenere conto perché così come chi sta in televisione è preoccupato dell'audience è ovvio che naturalmente anche chi sta sulla rete misura il proprio successo dal numero così come su twitter io vedo quando faccio vedo che prendo anche la mia dose di insulti ma quello fa parte della della realtà però vedo se una cosa è molto è molto condivisa anche lì naturalmente c'è l'uso di tutta una serie di tecniche che possono far sì che la cosa sia che l'articolo sia il più possibile visto condiviso non so se letto ma almeno comunque cliccato però devo dire che poi c'è sempre lo spazio al genio all'inventiva all'originalità alla battuta e io devo dire che a volte su twitter vedo dei colleghi che sono dei titolisti straordinari vi faccio un esempio c'è stata la crisi della lira turca voi sapete che la lira turca molti di voi non hanno usato le lire la lira turca all'epoca si chiamava appunto liretta nel senso che proprio per dire che aveva un valore inferiore alla lira nel mezzo della crisi della lira turca uno su twitter fa questo titolo crolla la lira torniamo all'euro io l'ho trovato fantastico io l'ho trovato fantastico devo dire così come credo sarebbe stato uno straordinario utilizzatore di twitter o di internet non so Ennio Flaiano longanesi la stampa ha avuto un grande direttore Alberto Ronchei che è stato anche mio collega che era un cognatore di aforismi fantastici ve ne dico soltanto uno che è adatto al tempo che viviamo lei è tuttologo risposta anche io lo trovo fantastico pensate pensate a Dino Buzzati che era un giornalista del Corriere del Corriere siccome all'epoca non c'era internet e si passavano delle notti non facendo assolutamente nulla lui scrisse un romanzo il deserto dei Tartari che fu possibile grazie al fatto che all'epoca al Corriere si passavano delle notti e non succedeva assolutamente nulla se no non l'avrebbe scritto insomma per lui era un grandissimo titolista che secondo me sarebbe stato perfetto nell'era dei social network tra l'altro Buzzati scrisse negli anni 60 un pezzo pubblicato in prima pagina sul Corriere della Sera che era un pezzo sulla fotogologia e lui pensava ipotizzava una prima della scala che veniva disturbata da parecchi telefonici mobili che lui chiamava teletini teletini però era perfetto lo scrisse negli anni 60 poi la telefonia mobile come sapete è arrivata negli anni 90 un titolista straordinario da social network fa la storia di un metronotte che cerca di riconciliarsi con la sua fidanzata che lo aveva lasciato uccide il suo nuovo compagno e poi si suicida com'è il titolo spera spara spira più sintesi di così fantastico no ve ne dico un'altra insomma a un certo momento lo stesso Buzzati che curava una pagina del Corriere della Sera dice cerca di convincere il suo direttore all'epoca era Missiroli del fatto che si dovesse pubblicare la notizia di una matrimonio sciolto all'epoca stiamo ancora parlando degli anni 50 non c'era il divorzio sciolto per impotenza coiundi di uno dei due e lui fece la notizia ma fece la notizia semplicemente perché voleva fare questo titolo non coniugava l'imperfetto abbiamo pochissimo tempo ancora poi dobbiamo lasciare quest'aula a un'altra manifestazione anch'essa molto interessante del Politecnico però De Martin ci voleva dire qualcosa e noi vogliamo ascoltarlo a proposito delle tecniche per rendere appetibile una notizia su internet sulle parole chiave su come si possono usare queste parole chiave ho capito bene in realtà continuavo oltre ad ascoltare gli interventi di Piero Angela e il direttore De Bortoli continuavo a pensare alla prima domanda che era testata multipla e l'ultima testata era su come fare a riconoscere un bravo giornalista infatti la reputazione però fatemi fare solo un rapidissimo connessione il mestiere il mio mestiere di docente universitario e il mestiere di giornalista hanno qualcosa di importante in comune qualcosa di importante in comune che era molto chiaro nell'ottocento e nel novecento fino appunto a questa grande trasformazione degli ultimi quarant'anni cioè per tutta l'impostazione liberale classica chiamiamola si riteneva fosse l'interesse della società e persino dell'economia che determinati professioni determinati ambiti non fossero soverchiamente esposti al potere del denaro e questi ambiti erano le professioni quindi il medico l'avvocato il giornalista e l'istituzione proprio suprema per cui questo valeva era l'università allora questo voleva dire quindi le professioni si strutturano e si dotano di tutta una serie di codici deontologici di buone pratiche e così via in questo periodo storico per cui per generazioni i nostri nonni bisnonni eccetera quando un medico raccomandava un trattamento quando un avvocato consigliava di proseguire in un modo oppure in un altro quando un professore in aula parlava era non c'era stata nessuna epoca del loro chiaramente però era più debole il sospetto che l'avvocato il medico il giornalista il professore parlassero per un qualche interesse nascosto quindi si riteneva lo facesse seguisse il giuramento di ipocrata nel caso addirittura di un medico in questi 40 anni e credo sia la radice di moltissime cose che abbiamo discusso oggi e di molto altro c'è stata una fortissima erosione a un certo punto il direttore parlava di autorevolezza una fortissima erosione dovuto al fatto che si è altamente facilitato proprio quello che i nostri bisnonni e trisnonni cercano di contenere cioè l'influenza del denaro e quindi se un professore parla un medico parla eccetera c'è il sospetto ovviamente spesso a torto spesso ingiustamente che ci sia un'agenda nascosta io parlo perché in realtà ottengo finanziamenti in una certa azienda che finanzia le mie ricerche e così via questo è un problema serissimo a mio avviso serissimo e non abbiamo ancora all'orizzonte strumenti veri per contrastarlo c'è una produzione c'è anche proprio ho cognato una specifica parola agnotologia cioè la produzione deliberata di ignoranza in ambito scientifico anche quindi forte denaro che finanzia deliberatamente la confusione il dubbio l'abbiamo visto in certi ambiti specifici questo mi sembra sia una delle grandi sfide del futuro perché altrimenti saremmo sommersi da questa informazione a volte prodotta deliberatamente d'arte con grandi risorse proprio per formare una specie di censura per annegamento grazie anche di questo segnale di allarme segnale di allarme segnale d'allarme da tenere presente e credo che sia una delle cose da portare a casa oggi quest'ultimo perché la confusione a qualcuno giova se vogliamo stare nel gioco del redditizio grazie grazie a tutti voi siete stati gentilissimi a Piero Angela a Ferruccio De Bortoli al professor De Martin grazie a voi che siete intervenuti a chi ci ha seguito in streaming che adesso li saluto il nostro prossimo appuntamento è il 12 di dicembre ed è due frontiere tra neuroscienza e intelligenza artificiale e poi il futuro dell'ambiente questi saranno i temi che affronteremo il 12 dicembre arrivederci grazie a tutti